G-Style con VIP Mese Su VIP Mese in edicola troverete l'ente di formazione Seci con i lavori realizzati nella loro sede dalla direttrice Anna Di Giulio La Seci, ente di formazione professionale sotto la direzione tecnica della signora Anna Di Giulio unitamente a tutto lo staff, prepara gli allieve nella formazione di base e nei corsi avanzati sia di estetica che di acconciatori erogandoli con qualità e professionalità che da sempre la contraddistingue La garanzia di un efficace e moderno insegnamento deriva dall'esperienza trentennale nella formazione con un costante aggiornamento tecnico del team docenti e dall'interpretazione di tutte le ultime tendenze nel settore Per chi si avvicina al mondo dell'estetica e dell'acconciatore nei nostri corsi trova un punto di riferimento consolidato, innovativo e affidabile G-Style è anche in edicola Siamo sul nazionale con VIP Mese Siamo sul nazionale con VIP Mese